Ciao a tutti, oggi è mercoledì 17 febbraio, la voce che sentite è sempre con la Liga B e Legatti e questa è la puntata numero 163 del Terzo Uomo, puntata che sarà totalmente dedicata alla Champions, infatti commenteremo Barcellona-Paris Saint-Germain, Lipsia-Liverpool e Porto Juve e poi faremo la preview dei quattro ottavi di Champions che inizieranno la prossima settimana. Qui con me c'è Charles Nwakpa, ciao Charlie. Ciao Gap, ciao a tutti e ben ritrovati. E il re di Calcio Tactics, benedetto greco, ciao Ben. Ciao, ciao a tutti, ovviamente se torna la Champions League non vi potete liberare di me e della mia voce, in questo caso anche del mio viso. E allora partiamo subito, partiamo subito dalla vittoria netta e dominante del Paris Saint-Germain per 4-1 contro il Barça, l'ennesima disfatta del Barça in Champions League contro un grande Paris Saint-Germain, la cui ottima organizzazione da Trappocettino e le grandi prestazioni individuali, soprattutto di Mbappé ma anche di Verratti, hanno portato a questo risultato. Sì, è stata una partita che a lungo andare ha fatto vedere la differenza di qualità e la differenza anche di organizzazione secondo me tra le due squadre perché il Paris Saint-Germain non aveva giocato affatto male nel primo tempo, è stata sfortunata ad andare in svantaggio con l'episodio del rigore e poi direi che veramente nell'ultima vezz'ora ha avuto un dominio incredibile. Mi è piaciuto molto l'approccio di Procettino di schierare questo 4-2-3-1 anche se in realtà era una squadra abbastanza ibera per la disposizione al centrocampo perché avevi Verratti che nominalmente era il trequartista o meglio faceva il trequartista per lo più in fase di non possesso visto che era quello che aveva il compito di andare a schermare Busquets quando il Paris Saint-Germain si difendeva con un blocco medio all'altezza della metà campo mentre invece nelle fasi di possesso diciamo aveva una sorta di free roll perché si muoveva un po' ovunque per aiutare la squadra a consolidare il possesso e aiutarla nella manovra. Era per lo più vicino a Palledes e secondo me i due hanno fatto una grandissima partita da questo punto di vista dando sempre tanta qualità nel palleggio e permettendo alla squadra di poter consolidare il possesso per molto tempo. Questo ha permesso appunto agli attaccanti in particolar modo un Bappé e Ken di giocare più alti, di muoversi tra le linee, provare a minacciare e impegnare la profondità assieme ai cardi e tenere la posizione dall'alto guardia del Bassa. Ha permesso anche ai terzini del Paris Saint-Germain di dare un contributo importante nell'ultimo terzo, in particolare con Zawak che era quello che dava sempre ampiezza a sinistra, ma anche Florenzi diciamo quando il Paris Saint-Germain consolava di più il possesso sulla tre quarti, si sganciava in avanti e andava a dare ampiezza sul lato destro. L'abbiamo visto anche nel secondo tempo, l'ha fatto con un bel movimento in profondità che ha portato al gol di Mbappé, al secondo gol di Mbappé e sì direi che in generale è stata anche una partita che ha dimostrato secondo me i limiti del Bassa, cioè una squadra che davanti soprattutto quando Messi si abbassa, non ha nessuno che vada ad attaccare la profondità, non ha nessuno che compensa i suoi movimenti. L'hanno fatto praticamente le due mezzali, però secondo me Griezmann e Dembele avrebbero dovuto fare molto molto meglio ed avrebbero dovuto fare molti più movimenti senza palla nel primo tempo. Su Dembele aggiungo anche che ha avuto diverse occasioni per puntare e saltare Kurzawa quando riceveva largo sulla destra, però non l'ha mai saltato per dei meriti propri e anche per meriti di Kurzawa che secondo me ha giocato una buonissima partita, tra l'altro ha vinto il duolo individuale anche quando spingeva visto che Dembele era spesso in ritardo nei ripiegamenti e in alcune situazioni il destra si è trovato in uno contro due contro Mbappé e Kurzawa e ovviamente tutte quelle volte lì e tutte le altre volte in cui invece era anche solo con Mbappé è finita, non male ma malissimo. Sì, tra l'altro Dembele anche quando ha avuto delle occasioni potenziali di creare delle occasioni serie ha quasi sempre scelto male, sempre il tiro, principalmente il tiro e questo ha fatto anche nervosire un pochettino i compagni. A me proprio dalle gestualità di alcuni giocatori del Barcellona, da alcune prestazioni individuali che poi adesso resteranno fotografate nella nostra memoria come quella di Piquet ma anche di Busquet che è stato quasi annichilito da Verratti da questo punto di vista. Secondo me poi c'è una bella fotografia di quella che è la situazione del Barcellona al momento a livello internazionale perché poi in realtà la squadra non veniva da un momento così negativo in campionato. Considerato che questo campionato è quasi falsato da questo Atletic che è potenzialmente a dieci punti sopra la seconda. Però questa partita è come se avesse segnato quasi ulteriormente la fine di quel momento, di quel ciclo in cui pensavamo che il Barcellona fosse automaticamente una delle favorite della Champions League. Adesso non più. E paradossalmente proprio contro il PSG che sembra quella che l'ha scavalcatata nella sensazione che io credo di avere al dia della partita singola. Il 2-8 contro il Bayern Monaco già aveva dato una bella botta finale, diciamo, a quelle che erano le nostre sensazioni. Ci aspettavamo, ne abbiamo parlato qui in quest'estate, ci aspettavamo forse una rivoluzione più ampia in estate, però mi rendo conto che è difficile fare rivoluzioni quando hai una squadra epocale. Comunque qualche giovane interessante l'hai messo dentro come Petri, come Dest, anche se ieri non c'è stata partita, ma non ci sarebbe stata partita penso per chiunque contro Bappé. Qualche giovane dicevo l'hai inserito, però a me ha lasciato tantissimo per pressa l'idea, non tanto la scelta, proprio l'idea di mettere in campo per forza Piqué, anche se in condizioni… Quattro giorni di allenamento dopo un infortunio gravissimo con la lesione al crociato. Penso che una settimana fa quando avevamo fatto la preview in giro non si parlava minimamente di un suo ritorno, invece è tornato, l'ha lanciato lì e ovviamente è finita molto molto male, anche perché Piqué è uno lento, ne veniva da un infortunio grave, la lentezza si è vista ancora di più. Non dai un bel segnale anche perché tu dai questo segnale alla squadra, cioè senza di lui non ho leadership dietro, quindi lo metto in qualsiasi condizioni perché la partita è più importante. E così tutto il lavoro che hai fatto prima di responsabilizzare gli altri secondo me viene meno, perché li responsabilizzi per arrivare a queste partite, perché sei il Barcellona. Poi c'è da dire che davanti c'era una signora squadra, una squadra che adesso è allenata ancora meglio di quando l'abbia fatto a Tuchel, che ha trovato secondo me, Piacettino ha trovato tantissimi giocatori che per lui sono proprio adattissimi, Verratti e Paredes su tutti. Secondo me non è che è stata meritata, è stata strameritata questa vittoria. Qual è stata la giocata di Mbappé che vi è piaciuta di più? Delle centomila che ha fatto? Io ce ne sono due a pari merito, secondo me. Il primo è il gol, il secondo invece è quell'azione nel secondo tempo in cui salta Messi, Pedro e Busquets nello spazio di tre metri con una giocata unica. A me la cosa che fa sempre impazzire ogni volta che vede un Mbappé è che lui riesce a mantenere sempre questa velocità di esecuzione, anche in spazi stretti, anche in situazioni dove servirebbe solo la tecnica pura. Cioè è un giocatore che spesso, secondo me, per chi soprattutto non lo vede giocare in Ligana, magari lo vede quando gioca con la nazionale o comunque in partite importanti di Champions, o un po' anche per la fama che ha, dici, ok, un Mbappé veloce, contropiede, velocista, centometrista, fine, non è la cosa più falsa al mondo, perché un Mbappé secondo me è un giocatore molto molto tecnico, molto bravo ad associarsi, molto bravo a giocare di prima. Queste due giocate, in particolare, ieri ne ha fatti diverse, mostrano la sua capacità, oltre che la sua autosufficienza, perché secondo me è un attaccante veramente autosufficiente, sa crearsi l'occasione da solo, mostrano ecco la sua velocità di esecuzione. Cioè oggi un Mbappé è un giocatore fuori scala perché lui gioca quasi a due per rispetto a tutti gli altri, quindi è sempre molto difficile fermarlo, è sempre molto difficile leggerlo. Questo secondo me gli dà un vantaggio enorme, sia in situazioni statiche che in situazioni dinamiche. Poi è chiaro, destra e ieri tra l'altro non hanno quasi mai spinto, se guardate anche le posizioni medie, vedete il pallino proprio il numero tre bloccato lì in basso sulla destra perché giustamente doveva coprire Piquet. Come avete detto voi, io sono rimasto sorpreso dalla scelta di Coman di rischiarlo, anche se va detto però probabilmente l'alternativa sarebbe stato schierare Frankie De Jong, diciamo che De Jong è con, tra De Jong e Piquet sicuramente preferisco Piquet a livello di garanzia. C'era anche Umtiti, ovviamente aversi giocato con due centrali mancini, però c'è pieno di squadre che giocano con due centrali destri, non avrei visto un animale a giocare con due centrali mancini. In effetti ci sta, anche se non viene da un periodo particolarmente positivo quando ha giocato, però sì, insomma, questa secondo me è stata una di quelle partite, la metterei anche sul piano di Francia-Argentina alla fine, tra l'altro curiosamente contro Messi, in cui abbiamo visto comunque che un Bappé, se non è ad oggi il giocatore più vicino a prendersi lo scetto di Messi e Ronaldo, poco ci manca. Cioè questa è stata una di quelle prestazioni da fuori classe con la F maiuscola, secondo me. Non credo che ci sia qualcuno di quel livello al momento, cioè se penso non c'è. Comunque decidere partite così importanti con questo peso, tu hai parlato di Francia-Argentina, tra l'altro giocata due anni fa, quando aveva vent'anni, no? Cioè è la cosa più assurda, o tre addirittura, se consideriamo questo il 2021. Sì, due anni e mezzo dai, per la precisione. Esattamente, cioè la cosa che più proprio mi lascia, da un lato sconvolto, in positivo, da un altro esaltato, è che il fatto che questo ragazzo abbia un'età veramente bassa. E può solo migliorare, perché dov'è che può peggiorare? Per me può solo migliorare. Come dici tu, questa sensazione di essere quasi solo un contropiedista, un velocista, è data da, secondo me, da chi ha seguito la sua prima Champions con il Monaco e poi non l'ha seguita al massimo più in avanti. Però è anche vero che lui è migliorato, cioè è migliorato tantissimo a livello tecnico da quando è andato al PSG, allenandosi con determinati giocatori, con determinati allenatori di livello. Comunque la giocata in cui sembra bip bip, è piché, willy il coiote. Non ce la togliamo più dalla testa, non credo. Sumbapè aggiungo che è un giocatore tuttilissimo, perché può giocare largo a sinistra e ricevere palla in fascia e andare in isolamento uno contro uno contro il terzino destro e saltarlo, può venire a ricevere palla più tra le linee, può fare la seconda punta, può fare la prima punta, può giocare anche a destra, seppur lì che non sia il ruolo in cui rende meno bene. Insomma, un giocatore che sa giocare in tutte le posizioni dell'attacco, l'unico aspetto in cui che lo possa migliorare un pochino è la creatività e l'assistere i compagni. Però, insomma, per il resto parliamo già di un livello altissimo tra i primi tre, quattro, cinque al mondo, quindi, insomma, è proprio una piccolezza, ecco. Poi è giovanissimo, come diceva ben prima, quindi di tempo per salire anche lì ce l'ha sicuramente. Sul Barca volevo aggiungere una cosa, o meglio, più di una cosa. In primis, che si è vista per l'ennesima volta, una squadra che in fase di non possesso è troppo passiva, anche quando difende con il baricentro medio-basso e lascia troppa libertà al portatore di palla, non sa leggere bene le situazioni di palla scoperta, la linea difensiva si muove male e poi per l'ennesima volta in questa stagione il Barca ha subito gol su cross da palla inattiva e questo non va assolutamente bene. C'è una disattenzione incredibile in queste situazioni che portano a gol facili per gli avversari, come appunto quello di Ken del 3-1. Tra l'altro, la scorsa settimana ce l'avamo dimenticati di nominarlo come potenziale terzo attaccante da portare all'europeo dopo Immobile e Belotti, direi che è assolutamente da ricordare e da inserire nel discorso, forse anche da favorito. A proposito di Ken, tra l'altro noi abbiamo parlato velocemente di Mbappé, ma si potrebbero anche spendere parole su Verratti e Paredes. A me è piaciuta molto la sua partita, perché credo che si sia speso bene nelle due fasi, ha fatto una gara piuttosto attenta, soprattutto in fase di non possesso, non era detto che sarebbe ripiegato con continuità, io perlomeno non me lo aspettavo, perché comunque già Mbappé tendeva a rimanere un po' più alto rispetto alla linea dei centrocampisti. Lui da quel lato ha lavorato molto bene, di fatto Florenzi e Ken non hanno mai sofferto i potenziali movimenti, i potenziali tagli in profondità di giro di Alba, proprio perché c'era una giusta attenzione, una giusta lettura. Mi ricordo anche nel primo tempo Ken ha ricoperto diversi palloni sulla tre quarti del basso e quindi senz'altro ha fatto un lavoro importante in entrambe le fasi. Poi anche in conduzione è stato prezioso, perché comunque a volte riusciva a partire palla al piede e quantomeno a guadagnare metri o guadagnare anche rimesse laterali per la squadra. Voltiamo pagina e passiamo a parlare della sconfitta meritata per 2-1 da parte della Juve contro il Porto, una gara che fin dal primo minuto si è messa in salita per la Juve in discesa per il Porto a causa del gravissimo errore di Bentancur che ha portato al gol dell'1-0 dei portoghesi. Questo gol subito in questo modo era un po' preannunciato perché prima o poi sarebbe dovuto succedere, visto che Bentancur ha fatto diversi errori di questo tipo. Nelle ultime uscite la Juve in quelle gare lì non aveva mai subito gol, un po' per demetro degli avversari che erano stati imprecisi al tiro, un po' per merito dei difensori del portiere bianconero, ma insomma questa volta è andata così, la Juve ha subito gol, si è ritrovata a dover fare tanto possesso palla, ma un possesso palla che è stato molto 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 sterile. Sì è stata una prestazione bruttissima da parte della Juve, l'avevamo un po' detto nella scorsa preview, l'avevo anche fatto dei tweet ieri, che se il Porto avesse segnato per primo la partita si sarebbe messa sul binario favorevole per loro, perché poi avrebbero potuto giocare più di attesa e giocare maggiormente in contropiede. Dopo aver segnato il primo, il Porto ha difeso come sempre con un 4-4-2 dal baricentro medio, però rispetto alle scorse partite ha anche fatto più fasi di pressione alta. Nei primi 15-20 minuti comunque la Juve ha fatto fatica a consolidare il possesso nella metà campo avversaria e credo che in generale non sia mai riuscita a far progredire bene il pallone per zone centrali. Ha attaccato in maniera piuttosto frenetica cercando quasi subito le fasce, soprattutto a destra. C'era Ronaldo che si apriva sulla fascia destra per toccare i palloni, tant'è che la sua itma praticamente è lungo tutta l'alnia di rimessa laterale nel primo tempo. La Juve ha fatto molto affidamento su Chiesa a destra, ma Chiesa, ancora a parte, non mi è piaciuto per niente. È stato forse uno dei peggiori della Juve perché ha sbagliato tanto a livello di scelte, non è mai riuscito a saltare l'uomo. Zero dribbling su cinque riusciti. Insomma è stato un livello veramente poco bellante. Krusevski davanti ha fatto poco o niente, McKennie è rimasto a lungo in ombra. Qualcosina è cambiato nel secondo tempo, quando il Porto è un po' calato, è diventato Morata. La Juve ha avuto un paio di occasioni, anche quasi sempre tutti nati comunque da azioni di fuorigioco. E le cose si sono anche messe peggio perché Chiellini si era rifortunato nel primo tempo, dopo aver resistito così a lungo nelle ultime settimane. Però ecco, Udemirà non è entrato benissimo. Per esempio sul gol che la Juve ha preso il primo, quello di Marega nel secondo tempo, lì si vede una disattenzione generale della squadra, che già doveva essere più concentrata, avendo subito un gol dopo 57 secondi. Quando prendi un gol del genere vuol dire che qualcosa non va, perché intanto lasciano entrare il tezzino destro con una facilità disarmante in area di rigore, perché nessuno lo ferma. Sono in tre, tutti lo accompagnano praticamente in aria. E poi c'è Demirà che non capisco per quale motivo si ha tre metri in aria da Marega, che era il suo giocatore più vicino. Sono queste disattenzioni, queste sbavature qui, che denotano secondo me una mancanza di concentrazione. Cioè la Juve non è entrata in partita fin da subito e a lungo non è riuscita a reagire all'inerzia sfavorevole dell'incontro. Il fatto alla fine che l'esultato sia la cosa forse meno peggio della serata, ecco, la dice lunga, perché sarebbe potuto andare molto peggio. Cioè il Porto ha avuto anche occasioni per ribaltare, avrebbe anche potuto segnare il terzo gol, soprattutto nella prima parte del secondo tempo, quando la Juve si è sbilanciata parecchio in mezzo al campo. Vedremo cosa succederà. C'era molto spazio tra le linee in alcune azioni. Sì, sì. Con i difensori che si appassavano e i due mediani un po' alti. Esatto. E a proposito dei mediani, a me non è piaciuto per niente Bentancur al di là dell'errore che ha fatto. Credo che la Juve sia stato forse uno dei migliori in campo per la Juve, perché comunque in fase di non possesso ha lavorato bene, anche con la palla è stato per lo più preciso. Però ripeto, la Juve è mancata qualità in generale. È vero che aveva anche delle assenze, ma secondo me non può usare come una giustificazione alla fine, perché io credo che questa Juve, almeno la Juve di stasera, fosse comunque più forte come i undici rispetto al Porto. Il Porto ha fatto la gara che doveva fare. È stata un po' fortunata nel modo in cui ha segnato subito, ma per il resto, secondo me, Consensava ha preparato benissimo la partita e chapeau. Sì, allora, devo dire che il gol all'inizio ha messo proprio la partita nelle condizioni perfette per Consensava. Non poteva aspettarsi di meglio. La Juve è andata a impattarsi con quella situazione che non riesce a reggere. Ormai abbiamo capito che ha difficoltà questa squadra che è in costruzione, ricordiamocelo sempre. Ha difficoltà quando tiene così tanto la palla e non trova sbocchi centralmente. Quando non c'è quadrato a dare una mano sulla fascia destra, secondo me questa squadra perde ancora di più. In uscita da dietro, in costruzione, manca Vartur. So che poi veramente gli assenti hanno sempre ragione, però sono delle assenze che la Juve comincia ad avere e sono abbastanza pesanti. Di Bala, che di fatto in questa stagione non è mai stata avvolabile al cento per cento e che ti potrebbe dare una soluzione in più offensiva. In più, oggi non ho capito assolutamente la scelta di Kulusevski-Bunta. Io non so, forse sono conservatori in quello che dico, però per me le partite importanti, cioè quelle europee per la Juve. Le devi giocare senza fare troppi esperimenti, senza fare cose cervellotiche. Adesso non è una cosa nuova, proprio una cosa inventata da ora. Kulusevski-Bunta o comunque seconda punta. Però secondo me non è mai dimostrato di essere il top in questo ruolo. Non puoi farlo giocare, secondo me, agli ottavi di finale di Champions League. La punta ce l'hai, o meglio, puoi farlo giocare se sei in emergenza. Siccome la punta ce l'hai, secondo me lì la dovevi mettere. Adesso parlando dopo siamo tutti bravi, ma siamo qui per parlare dopo, ovviamente. Secondo me, quando è entrato Morata, la squadra ha avuto qualche opzione in più in profondità, qualche opzione in più di gioco, ma sempre briciole, il che è abbastanza strano per la Juventus. A me quello che mi ha fatto più impressione, chiedo a voi se siete d'accordo, è proprio la sensazione che comunque questa squadra non avesse mai nei propri piedi l'opportunità di cambiare il destino di questa partita da un momento all'altro. Pur avendo Ronaldo in campo, che poi generalmente è il giocatore più forte per decidere le partite di Champions League. Sembrava una partita di campionato di quelle che si accendono e cominciano in un modo e più o meno verso il cinquantesimo. Capisci già come andranno a finire. Al massimo può cambiare qualcosa, ma più o meno là. Anche su 2-1 non ho visto una squadra che ha spinto in maniera esagerata di 2-2. Ho visto più una squadra che cercava di entrare in rigore per cercare un episodio, qualcosa di favorevole, ma non una squadra che avesse tantissime idee. Il che secondo me è abbastanza grave per arrivare a questo momento in questa situazione qui. Il gol di Chiesa è una mandala al cielo da questo punto di vista, perché banalmente il gol in trasferta ti permette di vincere anche 1-0. Ma in casa devi stare attento, devi stare pronto di nuovo. Non credo che si prenderanno altri due gol all'inizio di tempo, conoscendo la Juve e il suo temperamento e la sua storia, però devi stare attento a gestire la partita, perché non è per niente detto che questo gol di trasferta ti farà qualificare. Assolutamente no. Io volevo aggiungere una cosa sulla costruzione da dietro della Juve, cioè che dalla gara di ritorno di Coppa Italia con l'Inter stiamo vedendo Danilo stabilmente a fare il falso terzino, cioè che stringeva a fare di fatto il mediano con uno degli altri due mediani che invece si abbassa e fa la salida alla volpiana scendendo in mezzo ai due centrali. Questa opzione per realtà non è che sia da buttare il cestino a priori, però a me vedere Danilo lì secondo me fa perdere la Juve un po' di qualità nell'uscita da dietro, perché Danilo se invece rimaneva bloccato a fare il centrale di destra o il centrale di sinistra nella difesa 3 dava molta più qualità all'uscita da dietro della Juve perché sapeva gestire molto bene palla sotto pressione ed era anche bravo a fare i cosiddetti per pass, cioè i passaggi tra le linee. Poi partendo anche da lì a volte era anche bravo a andare a occupare quella posizione di diciamo mediano al fianco dell'altro mediano, però in maniera dinamica, non in maniera statica e questo metteva diverse volte in difficoltà la pressione avversaria che si vedeva un giocatore magari marcato a uomo che faceva un movimento alle spalle della prima di pressione e appunto questo era molto utile, mentre vederlo occupare quella posizione in maniera statica secondo me è un pochino danneggia l'uscita da dietro della Juve, tanto più se poi si deve abbassare ben di un cur che come già detto mille volte ha un sacco di problemi a gestire queste situazioni. Danilo è stato ammonito, è rinfilato quindi salterà la gara di ritorno e questa è un'assenza pesantissima perché alla fine riassumendo io penso che la Juve di quest'anno, se analizziamo le partite negative, le prestazioni negative, ha sicuramente sofferto le assenze perché oggi aveva fuori quattro giocatori, due fondamentali nella costruzione, Bonucci e Astor, uno fondamentale a livello di rifinitura a quadrado che è il miglior assistment della squadra e un giocatore che comunque abbiamo visto anche l'anno scorso nel post lockdown come Di Bala che a livello di finalizzazione pura ti garantisce sempre quel lampo, quella giocata, quel qualcosa, è comunque uno che può farti l'invenzione, può svoltarti la partita anche con un episodio da calcio piazzato per dire ok mancano questi giocatori però a me sembra sempre una Juve troppo umorale, cioè una squadra che subisce veramente l'andamento della partita che non voglio dire che si deprime però non mi sembra una Juve fatta per rincorre, cioè io almeno in passato non credo sia mai stato quello il punto di forza della squadra perché comunque tendenzialmente nel campionato la Juve segnava per prima e poi gestiva. Questa è una squadra che non è brava a rincorrere e non è neanche brava a gestire, ha maggior ragione se ci sono delle assenze per cui è una situazione non semplice da capire, poi ok oggi non c'era un'alternativa perché in panchina aveva fra botta, fagioli di Pardo e Bernardeschi, è entrato Morata come ha detto Ben, qualcosa è cambiato a livello di dinamica della partita, dinamica offensiva però cioè quelli che sono in campo io mi aspettavo veramente di più anche come livello di reazione invece è stata una Juve molto molto molle Comunque le partite si giocano in 22, bisogna dire che il Porto l'ha giocata molto molto bene una grandissima organizzazione sia nella prima pressione che poi anche nel ripiegare dietro con questo 4-4-2 che era molto corto, su Sky hanno fatto vedere proprio la distanza tra le linee occupavano molto bene lo spazio centrale, si muovevano in maniera molto coordinata i giocatori sembravano legati da un filo, Marega ha giocato una grandissima partita subendo un sacco di falli, lavorando molto bene spalla alla porta, Sergio Rivela secondo me il centrocampo è stato il migliore, poi la linea difensiva in generale si è comportata rischettamente bene con Pepe che ovviamente quando deve difendere in area di rigore nonostante l'età riesce comunque a fare il suo sporco lavoro E poi la dimostrazione che in Champions League il livello è alto, c'è poco da fare cioè quando si esulta per i sorteggi succede sempre questo, automatico mi ricordo la prima pagina di Mars quando il Barcellona sorteggia la Roma un bonbon, però la devi giocare il quarto di finale, la devi giocare l'ottavo ci ricordiamo sempre che comunque il Porto è una squadra che ha esperienze internazionali ormai da anni e comunque sono squadre che banalmente queste partite le vedono anche come delle vetrine i giocatori sanno che in questo momento tutto il mondo li sta guardando ma soprattutto li sta guardando chi li potrebbe comprare e li giocano con una cattiveria agonistica e con un'attenzione diversa perché il Porto io ho avuto modo di visionarlo anche perché scontrandosi con lo Sporting Braga con cui la Roma giocherà mi è capitato ed era una squadra anche abbastanza diversa da quella che ho visto sarà perché ha dovuto passare una gara del tutto difensiva mentre quella che ho visto io contro il Braga è una partita in cui il Porto faceva la partita di fatto ma si è vista anche l'attenzione, la qualità anche nelle scelte poi banalmente la Juve secondo me è andata molto in crisi anche su queste palle alte può sembrare strano ma è come soprattutto per una squadra che ha Belit e Chiellini Chiellini prima dell'infortunio male male secondo me su Marega è malissimo anche e comunque non te l'aspetti da Chiellini sui duelli aerei ha fatto male Chiellini ma anche con la palla con la palla al piede ha sbagliato troppe cose in uscita proprio male 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 ma comunque la Juve in generale si è spaccata in due su questi lanci del portiere cioè è cascata proprio nella trappola in pieno al di là del gol che succede lo sappiamo adesso sappiamo che tutti parleranno solo del primo gol quello più grave è il secondo il primo capita e basta il secondo non può capitare alla Juve io sinceramente non lo ricordo non guardo tutte le partite della Juve ma erano anni che non vedevano la Juve un gol del genere con otto uomini in aria che vedono passare la palla senza marcature non tracciando per niente la linea di passaggio molto più grave quello ma comunque in generale un atteggiamento è una partita sbagliata però il gol in trasferta aiuterà credo che aiuterà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti